Progetto ciclo del rame Vi presentiamo il ciclo del rame che, attraverso reazioni, permette di ottenere il rame in differenti specie chimiche, sia per struttura che per colore. Dopo aver pesato la quantità di rame necessaria, la si tratta con acido nitrico concentrato, per ottenere una soluzione azzurra di ione rameico. Si scalda fino a completa scomparsa dei vapore rossi. Alla soluzione acida si aggiunge una soluzione di idroassido di sodio, fino a precipitazione dell'ossido rameico, controllando la basicità della soluzione. Il precipitato blu intenso corrisponde all'idroassido rameico formato. Ma adesso, quale sarà la fase successiva? La fase successiva sarà la precipitazione dell'ossido rameico nero, che viene ottenuta riscaldando la soluzione su una piastra riscaldante con agitatore magnetico. A questo punto, tutto il rame si è trasformato in ossido rameico nero. Ora è necessario recuperare il precipitato di ossido rameico mediante filtrazione. L'ossido rameico viene trattato con acido cloridrico, fino a completo scioglimento del precipitato nero, controllando il pH della soluzione, che deve essere acido. Il risultato finale è... Per riottenere il rame di partenza, è necessario trattare la soluzione con zinco metallico. Si svilupperanno perciò sia gas di idrogeno che rame precipitato. Verrà poi calcolata la resa del processo finale, tenendo conto del rame formato rispetto a quello utilizzato. Il risultato finale è il risultato finale. Il risultato finale è il risultato finale. Il risultato finale è il risultato finale.